Il personale della Polizia di Stato appartenente al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno ha eseguito due ordinanze applicative della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di due fratelli di 26 e 28 anni, entrambi di Sarno, ritenuti responsabili di furto a cravato in concorso. Le due ordinanze sono state emesse a seguito di indagini condotte dai poliziotti del Commissariato di Sarno che hanno consentito di ritenere i due fratelli, già noti alle forze dell'ordine per diversi precedenti, responsabili di due furti di motocicli avvenuti a Salerno il 30 marzo 2018. Entrambi i veicoli, infatti, sono stati trovati in Sarno dagli agenti del Commissariato in un casolare abbandonato. Dall'immediato rilevamento delle impronte digitali presenti su alcune parti di uno dei due motocicli, i poliziotti hanno accertato la responsabilità dei due fratelli. I due arrestati sono stati condotti presso la loro abitazione in regime di arresti domiciliari.